Ce l'hanno disegnata come la riforma delle riforme, qualcosa di stupendo. Sono convinto che se la maggioranza è veramente convinta di questa legge doveva portarla a termine, doveva rimanere in aula, doveva costringerci a rimanere il 24, 25, 26, fino al 31, perché se loro sono convinti della bontà della loro legge dovevano rimanere in aula, discutere articolo per articolo per arrivare alla fine. Cos'hanno fatto invece? Hanno stralciato 55 articoli, praticamente metà legge per dire, beh, non vale più di tanto, andiamo tutti a casa che è Natale e intanto teniamo metà legge. Mi domando, domandiamoci tutti se questo vuol dire far bene alla Toscana o dire alla Toscana vi do mezza legge e poi agli altri vediamo che cosa succede. È una domanda da porci.